E' uscito fuori un libro elegante, con un contenuto accattivante, come deve essere la prosa del giornalista, alla ricerca dell'aneddoto, della curiosità, persino della idiosincrasia di ogni presidente, i vizi, le debolezze umane che hanno caratterizzato per 75 anni gli inquilini di quel palazzo. E mi fa piacere che Giovanni abbia raccolto il mio invito, rivolto un anno fa, e riuscito poi a tirare fuori un testo assolutamente piacevole, che non tralascia alcun riferimento storico, che non appesantisce la materia, perché inesorabilmente dietro la vita politica di ogni presidente ci sono mille temi che vanno sintetizzati, vanno selezionati come hanno saputo fare gli autori.